Che acquadisti? Eccoci, quindi posizionate il vostro secchio, sempre quello dell'olio, sotto il bocchettone, sotto la grossa tubazione che è la pompa dell'acqua, va al radiatore e sganciate dal radiatore. Lo potete anche fare da qua, vedete, ci posizioniamo e lentamente andiamo a sganciare la nostra grossa tubazione dal radiatore e poi sgancieremo anche la tubazione piccola dal radiatore. Intanto predisponiamo l'uscita delle varie facette, magari utilizzando una pinzantina a vecchi piccoli e lunghi che vi consente di utilizzare. Poi, con un piccolo feceritino, cercate di aprire il vostro tubo in un anno. E' ovvio che qualche piccola incrostazione sia... Ecco, quando sentite il clock, vuol dire che la vostra tubazione sia sganciata e lo stesso cercate di fare anche per la tubazione piccola, che essendo su metallo, metallo su metallo, dovrebbe già essere un attimino difficile. Ok, avete visto come si fa, piano piano sganciate e allontanate la tubazione dalla sua sede, in questo modo, piano piano senza fretta, eccolo, e tra poco arriverà l'acqua. E tutto senza dottorina, è sporchiare, ovviamente. Quindi anche una goccia, i posti dove decidete di fare questa rotazione. Signori, in attesa che si svuoti, perché ci vedo un po' come rivederci al procedo della vita. Ah, come potete vedere, è sempre il pol radiofoglio, da PUNAN. Nuovo, perfetto. Come se no, avesse fatto anche l'indimento di zoom ancora. Ovviamente, testa sempre perfetta, manutenzionata, motore ottimizzato. Signori, a dopo.